Cambiamento climatico. Partiamo dalla prima bufala in cui ci vogliono infilare, cioè fra chi ci crede e chi non ci crede. No signori, il tema è un altro. Il cambiamento climatico c'è. Dire che il cambiamento climatico c'è è come dire che l'estate arriva dopo la primavera e dopo l'estate arriva l'autunno, quindi un'ovvietà. Il clima cambia ogni 400 anni. Cos'è che cambia? Non ci facciamo fregare. Cambia il concetto di chi lo produce questo cambiamento climatico. E allora sapete, la narrazione universale, cioè quella dettata dalle Nazioni Unite, cioè a livello politico globale, è che l'uomo è causa di questo cambiamento climatico. Ma ci sono alcuni scienziati, come Prodi ad esempio, che dicono che il cambiamento climatico è determinato dal Sole, dall'attrazione gravitazionale dei pianeti ed è determinato non dall'uomo, ma solo al 5% a natura antropica. E allora questo è il vero dibattito. E quindi confinare, ancora una volta come è stato fatto per il Covid, Vax, non Vax, usciamo fuori da queste stronzate. Non ci ricadiamo ancora. Notizia invece di oggi è che Closer, premio Nobel per la fisica del 2022, ha detto, praticamente la narrazione sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione nella comunità scientifica che minaccia l'economia mondiale, il benessere delle persone. Esiste una crisi energetica aggravata da una scienza climatica errata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Closer sta dicendo che la responsabilità del cambiamento climatico è non solamente dell'uomo, ma in minima parte dell'uomo, ma già affermare questo, cioè cambiare la narrazione, vuol dire creare un disastro economico e un disastro umano, perché colpevolizzare l'uomo porta a un disastro umano. E allora sapete che fine ha fatto Closer? Closer doveva intervenire a un convegno organizzato dal Fondo Monetario Internazionale e la sua partecipazione è stata cancellata. Ecco, allora ritorniamo che chi non è schierato con il pensiero monodiretto che stabilisce che l'uomo è il principale responsabile del cambiamento climatico e quindi la CO2 che produce anche col respiro, oltre che le mucche, gli allevamenti intensivi e tutto il resto, ecco, viene bandito da qualsiasi dibattito. E questa ancora una volta viene chiamata scienza. E chi prova a raccontare che esiste un'altra verità e che quindi le due verità vanno messe a confronto, ecco, viene bandito, viene investito da una macchina del fango e quindi siamo di nuovo alle stesse storie. Allora, la differenza però qual è? Che Closer, premio Nobel per la fisica, che dice che l'uomo e la CO2 sono addirittura benefici per il clima e per la salute del pianeta, viene bandito dal Fondo Monetario Internazionale. E poi noi diamo retta a chi? Diamo retta ad Angelo Bonelli, che, mi dispiace per lui, fa il geometra e quindi non ha le competenze per contrastare scientificamente quello che dice la scienza, che non deve diventare un dogma come lo è stata per il Covid, la pandemia e tutto il resto, e dice condanniamo quelli che negano il cambio climatico. No, non ci provare Bonelli, nessuno sta negando il cambio climatico, chi lo nega sbaglia, il cambio climatico c'è. Mi dispiace che assisteremo ad altri 80 anni perché va di 400 anni in 400 anni e l'impennata che si registra, come si dice, ammazza da golf, è un'impennata di cui non si conoscono ancora le ragioni. Persino gli scienziati dicono che è impossibile conoscere le ragioni di questa impennata, anche perché l'impennata è iniziata ben dopo che si era avviata già la rivoluzione industriale, quindi l'uso del carbon fossile. E allora, tra tutte le bugie del clima, sfatiamone almeno una, il cambiamento climatico c'è, alcuni scienziati dicono che è determinato, soprattutto dal sole, minima parte dell'uomo, tra questi troviamo anche Prodi, che poi allora facciamo la fine di Montagné, Franco Prodi, Università di Ferrara, ha passato la sua vita fisico dell'atmosfera a studiare il clima, e ex CNR, quindi non lo sta dicendo Raffaella, Regoli o qualche negazionista, lo sta dicendo uno scienziato. E allora, se lo scienziato però dice qualcosa che non ci piace sentire, basta, non chiediamo più nell'ingano, basta con queste stupidaggini, perché poi vedete, mentre veniamo distratti dal clima, l'emergenza, mentre qualcuno invoga addirittura l'esercito per sistemare queste situazioni, ieri sera qui a Milano c'è stato veramente una tromba d'aria pesantissima, una cosa è come reagisce la gente, la gente reagisce già con questa paura, col terrore che sta per succedere qualcosa, ecco, basta terrore, basta paura, il cambiamento climatico andrà avanti in questo ciclo per altre più 80 anni, perché va di 400 in 400 e ci sono tante tesi. Una di queste è che le Nazioni Unite, che vengono finanziate anche da privati, come avviene per l'OMS, per redigere questi report che poi condizionano la politica globale, ecco, le Nazioni Unite, questi rapporti trovano grandi finanziatori, grandi finantropi, sono sempre gli stessi nomi, sì, non li dico perché altrimenti non ridite, però il NOAA che si occupa di applicare, poi di commercializzare anche le nuove tecnologie della NASA, ecco, perché sapete che il rapporto arriva dalla NASA, ma questi rapporti climatici trovano dei finanziatori anche privati, cioè vengono finanziati attraverso un istituto che si chiama NOAA. Ebbene, è inutile che vi dico chi finanzia il NOAA, ci sono tanti filantropi, sì, compare anche Bill Gates, ma la realtà è che dietro il cambiamento climatico c'è un business pazzesco, un business trilioni di dollari, un business pazzesco, seguite la linea dei soldi, perché vedete, colpevolizzare l'uomo, ridurlo in cattività, addirittura far scattare le emergenze sociali, ecco, questo è sbagliato, questo è negazionismo, cioè negare all'uomo il diritto di vivere sulla madre terra.